La ASD Ciclamatori Calabria vi invita al quinto trofeo ciclistico Città di Rende, cronometro individuale amatoriale, mercoledì 25 aprile dalle 9.30, 17 km di adrenalina all'ultimo secondo, sul percorso di Viale Principe a Rende, il tutto in diretta regionale su Radio Sound. Quinto trofeo ciclistico Città di Rende, mercoledì 25 aprile Viale Principe Rende, vi aspettiamo! Info su ciclamatoricalabria.com in collaborazione con Love Machine, Parco dell'amore, ex piazzale ANAS, uscita Cosenza Sud, ottica sempre in vista, Corso Roma a Paola.